Tutto il mondo sono maniera, ma... ...on va a preparare... ... il suo... Chi è mio? Mi chiamo... Cristina Mi chiamo Marta Mi chiamo Natalia E cosa stiamo ragazzi? Mi chiamo... I fotografi I paparazzi I fotografi Mi chiamo... Mi chiamo... ... l'ansio... ... il palco Mi chiamo... ... l'ansio... ... il palco Mi chiamo... ... e mia zia come si chiama? ... ... vera del polso ... vera del polso Mi chiamo... ... Cristiano Natalia ... vera del polso Mi conto... ... l'aria... ... povera... ... l'arriamo... ... e arriviamo... ... mi chiamo... Chi nel guardo... ... o al dolorato ... o al dolorato ... che mi chiamo... ... che si parlano della torna... ... che mi... ... vera del polso... ... e noi... ... per ilée del polso ... non... ... pozzo, pozzo... ... pozzo... ...- ... « Puzzo» ... qu'era la perciata...